Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Oggi abbiamo un tema particolarmente toccante e difficile da trattare, il femminicidio di Giulia Cecchettin. Questa tragedia ha davvero scosso l'Italia, diventando un argomento di grande discussione. La sua storia non solo ha occupato le prime pagine dei giornali, ma ha anche acceso dibattiti in ogni parte del paese. Una delle questioni più delicate sollevate in questo contesto riguarda il patriarcato. Gino Cecchettin, il padre di Giulia, ha parlato di questo durante un'intervista nel programma e che tempo che fa. Le sue parole, insieme a quelle di Elena, la sorella di Giulia, hanno generato un misto di reazioni, non tutte positive. Alcune di queste hanno persino portato a discussioni accese in diretta televisiva. Anche figure del giornalismo, come Vittorio Feltri, si sono inserite nel dibattito. Ricordo che Feltri ha scritto un tweet che ha sollevato ulteriori discussioni. Ha detto che, sebbene sia profondamente toccato dalla storia di Giulia e ne provi un'infinita tristezza, è stanco delle parole dette dai suoi familiari e da alcune parti politiche. Queste affermazioni hanno alimentato un dibattito che è ancora vivo. Feltri, nel suo ruolo di direttore editoriale, ha sempre messo in evidenza l'importanza di parlare dei femminicidi. Ma è stato anche critico su come alcune figure, come il padre di Giulia, siano state elevate a simboli nazionali. Queste sue opinioni hanno aperto nuove discussioni, mostrando quanto sia complesso e delicato questo tema. È un argomento che ci invita tutti a riflettere e a confrontarsi, sempre con rispetto e sensibilità. E voi, cosa ne pensate? Condividete la vostra opinione nei commenti.